Rondo e Roberic ci stanno frequentando, cosa che io via non c'è sul canale già mesi fa ma che oggi si è concretizzata dato che Rondo ha postato una serata di ieri una foto di lui con un culo fondamentalmente scrivendo la gattina ora il culo sembra quello di Roberic ma chiaramente al buio, in una storia e tutto quanto non è una prova certa la cosa certa è Roberic che mette una story dove scrive differenze a se stessa come la gattina esattamente quello che aveva messo Rondo nelle stories quindi che dire, la situazione è abbastanza palese e questo non mi sembra altro che è una conferma aggiuntiva datevi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate, noi ci vediamo in un prossimo video lì nello studio